Le start-up meritano il più ampio sostegno e le politiche del governo sono orientate in questa direzione, non solo da un punto di vista della formazione culturale, ma anche la possibilità di una maggiore capitalizzazione delle start-up. Per colmare alcuni deficit in parte di competenze manageriali, in parte di carattere finanziario, che spin è apparso un programma particolarmente opportuno per consentire alle imprese del mezzogiorno di accedere a mercati più ampi, a mercati internazionali. Grazie